Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha fermato l'ordinanza per il rientro degli aquilani nelle loro case. Verrà fatto man mano un elenco delle abitazioni che sono state dichiarate agibili e i cittadini che vorranno potranno far ritorno nella propria dimora. Ma non è un obbligo, tiene a precisare Cialente. Non si tratta di un atto col quale io obbligo i cittadini ad entrare. Con questo elenco che verrà pubblicato di giorno in giorno noi diciamo agli aquilani, ai quali io con l'ordinanza subito dopo il terremoto avevo interdetto di fatto di grandi inagibili tutti gli edifici pubblici, privati del comune, io dico guarda il tuo edificio, il tuo appartamento è agibile, poi piano piano chi vorrà potrà cominciare a rientrare. La paura infatti con lo sciame sismico che continua è tanta, quindi chi non si sente sicuro di tornare nella propria casa non dovrà farlo. Dovremmo superare questa fase psicologica che non è di paura, è una forma di trauma per quello che ci è capitato. Quando finiranno queste benedette scosse che purtroppo ci accompagnano, anche ieri ci sono state scosse importanti, superiori a tre di magnitudine, io sono convinto che ciascuno di noi che ha la fortuna di avere la casa agibile piano piano rientrerà nelle casse e sarà un processo lento, nessuno viene forzato, è solo un modo di dire guardate io avevo detto il vostro edificio erano inagibili, ebbene da una verifica questi sono agibili, poi i cittadini decideranno loro.